Io mi congratulo innanzitutto col Comune per aver organizzato, continuato e potenziato da quello che ho capito il Festival che conosco perché diversi anni fa ero assessore alla cultura della provincia e partecipammo, organizzammo con l'architetto Cocchiaro che viveva, non so, girava, stava negli Stati Uniti all'epoca Ah, sta ancora, mi ricordo, sono passati 15 anni, quindi avevo dei ricordi e la cosa che ho sempre sottolineato con... Sì, ecco, allora dicevo, la cosa che all'epoca mi era piaciuta molto il fatto di aver unito praticamente questa manifestazione unisce un po' il Piceno perché con il Travertino di Acquasanta, le capi del Travertino di Acquasanta Ascoli della città di Travertino fino al Molo di San Benedetto dove appunto il Travertino Molo Sud diventa delle magnifiche opere d'arte, delle magnifiche sculture quindi veramente, mi ricordo già da allora quello che dicevamo che era il vero festival del territorio del Piceno proprio per questo elemento che unisce appunto tutto il territorio quindi mi complimento e poi saluto l'amico Andrea Virozzi che ti trovo con molto piacere oggi grazie e complimenti davvero